Sto già registrando io Sì, con freddo le mani Sì, con freddo le mani Sì, con freddo C'è l'effetto video che sembra che le palle si pieghino Si pieghino? Sì, perché le palle di gomma Sì, con freddo le mani Sì, con freddo le mani Sì, con freddo le mani Sì, con freddo le mani